21 minuti live, 21 minuti per il miglioramento delle performance. Oggi con noi un mio amico, uno straordinario esperto di funnel marketing e vi do anche una cosa, siamo nati lo stesso giorno, sarà un caso astrale che andiamo così d'accordo. Alessandro Bentivoglio, buongiorno e benvenuto. Ciao a tutti, buongiorno, ciao Roberto, grazie per l'invito in questi 21 minuti di talk. Allora, chi sei e che cosa fai, così poi magari possiamo approfondire un po' di conoscenza anche per quei pochi che ancora non ti conoscono. Assolutamente, assolutamente. Allora, appunto, come hai detto tu, mi chiamo Alessandro Bentivoglio, sono un imprenditore e consulente di marketing per le aziende. Aiuto le aziende a creare sistemi di marketing per acquisire nuovi clienti, quindi marketing online parliamo, e aiuto le aziende a strutturare il loro team di marketing. Perché oggi il più grande problema è proprio quello di dire, sì, ok, ma chi me lo fa questo sistema, chi me lo fa questo lavoro? E quindi le aziende hanno bisogno di capire come organizzarsi. Allora, questo ci introduce a una delle, sai, dei miei must, per poter gestire un'azienda fondamentalmente qualunque sia il modello di business, devi avere sotto controllo tre variabili. Numero di nuovi clienti, venduto medio per cliente e tempo medio di riordino. Diciamo che in questa ottica un consulente, chi meglio di te, ci può dare un punto di vista su queste tre variabili. Quindi, da un lato, la lead generation per l'acquisizione di nuovi clienti, da un'altra parte la conversione da lead a cliente, e il terzo, naturalmente, i sistemi di fidelizzazione di upselling o cross-selling sul cliente successivi. Esattamente, esattamente. Allora, come hai detto te, sono le tre fasi più importanti. Sono tutte e tre importanti, perché, Roberto, quello che succede è che molto spesso ci focalizziamo su un aspetto e ci scordiamo degli altri. Soprattutto in questo momento che stiamo vivendo, appunto, stiamo vivendo una crisi a livello globale, dobbiamo, secondo me, focalizzarci di più. Va bene sull'acquisizione? Quella deve essere proprio un po' come un rubinio. Bravissimo. Però, dall'altra parte, non ci dobbiamo scordare di quelli che sono i clienti che abbiamo già acquisito e che ci hanno magari già dato la loro fiducia. Spesso ce lo scordiamo. Quindi, per quanto riguarda la parte di acquisizione, bisogna chiaramente imparare a comunicare all'esterno quello che facciamo. Che sia attraverso i social, attraverso i video, attraverso un funnel strutturato. Però, dobbiamo iniziare a comunicare. E questo è oggi il suggerimento che mi sento di dare alla maggior parte dell'azienda. Perché quello che facevamo prima, ma facciamo ancora di più oggi, è proprio consapevolizzare le aziende sulla necessità di andare online, digital. E quindi, questa crisi che stiamo vivendo oggi, ci dà ancora più, purtroppo, verità su questo aspetto qua. Perché ci fa capire che la maggior parte delle persone oggi stanno acquistando online perché sono costrette a casa. Questo è quello che... Da un lato c'è il senso d'urgenza, dovuto a un evento straordinario che non è sotto il nostro controllo, che ha velocizzato questo processo. Ma parliamo ormai, io ci conosciamo da un bel po' di tempo, e entrambi abbiamo sempre avuto questa capacità di pensiero laterale per cercare di trovare dei nuovi scenari nei quali poter mantenere vantaggio competitivo. Dal punto di vista prettamente pratico, quindi secondo te, quali sono i tre consigli che possiamo dare per potersi approcciare al mercato online e quindi alla parte proprio di big generation? Beh, allora, prima di tutto bisogna iniziare... Secondo me, prima di tutto, è il mindset. Cioè, l'imprenditore oggi pensa che il marketing sia un qualcosa che non aspetta a lui. Cioè, ma pago una web agency e mi farà il marketing. No, ragazzi. Il marketing è parte della strategia di business. E quindi non possiamo non conoscere quella che è la strategia di marketing che è abbinata alla strategia di business. Quindi questo è il primo aspetto. Cioè, la prima cosa che l'imprenditore deve fare è cercare di capire come funzionano questi sistemi. Non a livello tecnico, chiaramente, ma proprio a livello di, insomma, ragionamento. Perché se il sistema di marketing funziona o non funziona, porta risultati o no, dipende dall'imprenditore. E sembra strana, no, questa cosa? Perché uno dice, ma c'è chi fa il lavoro? No, ma infatti una delle cose interessanti, no, che io e te ci siamo sempre trovati d'accordo su questo aspetto, è che l'imprenditore, per poter delegare, deve conoscere non tanto il come, ma almeno il cosa e i risultati attesi, perché altrimenti tu non puoi delegare. Poi il come magari avrai un esperto che potrà scegliere all'interno delle sue conoscenze, delle sue capacità, lo strumento più utile, ma tu devi avere ben chiaro quella cosa, cosa ti serve e che tipo di risultati ti aspetti da quell'azione. Quindi la capacità anche di trasformare i numeri poi diventa molto molto importante. Tu da questo punto di vista anche tu sei un esperto, no? Sì, sì, io sono un merda già di più dei numeri, esatto. Eh, quindi sì, esatto, cioè è proprio questo il concetto, no? Perché parte tutto da lì, cioè è inutile che parliamo degli strumenti, no? Perché poi arriva, ah ma che strumento usi? Sì, vabbè, ma lascia stare lo strumento. Cioè, prima di tutto, qual è il tuo approccio a questo argomento? Cioè, hai capito a cosa serve, dove ti può portare? È questo quello che noi aiutiamo le aziende a fare, come anche voi, insomma, cioè insieme, quello che facciamo alla consulenza serve a questo. Cioè, aiutare le persone a capire i vari strumenti che esistono e cosa ci possono aiutare a raggiungere, come approcciarci mentalmente. Dopodiché... Questo è un aspetto importante, ma secondo te, detto così fuori dai denti, ma può essere fatta la consulenza a un imprenditore, un soggetto, un'azienda che non conosce? Che non conosce... Che non ha conoscenza. Quanto è importante che abbia almeno un minimo di infarinatura? Io ormai sono anni che posso fare la consulenza a chiunque se almeno ha iniziato a fare un po' di formazione. Cioè, chi è proprio a digiuno di tutto, fa fatica, anche perché, ritorniamo dalla filosofia che ci insegna che l'essere umano non può creare niente, la creazione è qualcosa di divino. Noi come esseri umani possiamo distorcere. Per cui se un imprenditore, che sicuramente è esperto del suo prodotto o servizio, ma non conosce che cosa c'è fuori, quali possono essere le metodologie, farà fatica anche a fare la domanda al consulente per la risoluzione di alcuni problemati. Esatto, perché poi tu lo sai bene anche tu che la domanda è quella che è la cosa più importante, non la risposta. Che risposte sono tutti bravi, ma saper fare la domanda giusta sicuramente è quello che ci aiuta. Eh, ma è proprio quello che hai detto tu. Cioè, è così, tanto d'altra parte, bene o male facciamo lo stesso lavoro, no? Semplicemente con dei focus diversi. Ma il concetto è quello, cioè se l'imprenditore, se la persona non ha un minimo di predisposizione a, diciamo, apertura mentale, voglio scoprire, cioè sono qui perché voglio imparare, voglio scoprire, ma mi dice, no, no, io quello che ho fatto fino ad oggi funziona, sto bene così, eh, noi non ci possiamo fare niente. Cioè, non possiamo trasformare le persone. Quindi, chiaramente, quando una persona viene con una mentalità un po' più aperta e disposta ad imparare, allora possiamo lavorare bene. Perché se no, d'altra parte, anche il nostro lavoro viene sprecato. Ecco. Questo è un po'... Secondo te, diciamo un po' nel dettaglio, secondo te quali possono essere tre variabili da considerare per poter misurare lo stato di partenza di una potenziale PMI? Cioè, tu ti sei mai fatto un'idea di quelli che potrebbero essere tre indicatori indicatori che già nell'immediato un imprenditore si riguarda e dice, ok, forse ho bisogno di un po' di consulenza. Bah, guarda, basterebbe uno. Cioè, hai un... Cioè, che poi alla fine è un po' quello che noi chiediamo quando, insomma, prima di parlare con le persone, no? Prima di fare una consulenza facciamo una sorta di questionario per valutare, un po' fare un assessment di quella che è la situazione. Eh, prima di tutto è, hai un sistema di marketing? Sì o no? Ok. E partiamo da lì. Due. E già qui si apre lo scenario. Quello che ti risponde marketing, sì, io faccio il volantinaggio una volta all'anno fuori... Esatto. Cioè, bravo. No, ma infatti io quando dico sistema di marketing dopo il scontato che sia online, però giustamente ti dici, sì, sì, volantinaggio. Esatto. Ok. Allora ti rimetto sul no. Domanda per te, bravo. Cioè, già basterebbe questa per dire, ok, hai bisogno o non hai bisogno? Cioè, stai acquisendo contatti, hai un sistema che ti permette di generare nuovi contatti in automatico dall'online? Sì? No. Perché la cosa bella che forse non si sa è che quando noi cerchiamo, cioè in un'azienda vogliamo cercare nuovi contatti, che facciamo? Alziamo il telefono, prendiamo delle liste, mandiamo, spammiamo, siamo noi a fare attività push. Invece quello che noi riusciamo ad ottenere grazie alla creazione di un sistema di questo genere è il fatto che il cliente viene da noi. Cioè, il cliente che si informa, quindi è già predisposto mentalmente perché sta cercando qualcosa, clicca perché vuole avere maggiori informazioni e noi siamo pronti a dargli le informazioni che sta cercando. Questo ottiene, l'imprenditore ottiene due risultati. Il primo, in termini di brand e di posizionamento, di conoscenza sul mercato, e il secondo, migliore tassi di conversione. Uno dei primi criteri per mantenere anche la forza vendita è di tenere delle persone che sono vincenti e naturalmente nel momento in cui contribuisci anche tu a dargli lead, a dargli contatti che sono facilmente convertibili è tutto molto più semplice. Bravissimo, cioè semplifichi la vita dei commerciali. Cioè, i nostri commerciali, o a volte noi ci appoggiamo anche a dei telemarketing esterni quando chiaramente devi scalare, no? E hai bisogno di personale esterno. Cioè, loro dicono chiamare i vostri contatti è un piacere perché non vedono l'ora che li chiamiamo, perché ci stanno aspettando. E non il contrario. Quelli che ti attaccano il telefono in faccia non mi chiamare più e parolacce. Cioè, questo è quello che noi dobbiamo oggi fare. Vedi, già con questi piccoli suggerimenti che sono delle banalità, poi dietro c'è un mondo, no? Questa è un po' la punta dell'iceberg. Però, sono queste le cose basi che intanto l'imprenditore deve iniziare a capire. E poi dopo da lì si parte, si fa tutto. Secondo te quanto è il tempo, la gestione del tempo? Quindi potrebbe essere il tempo medio di risposta o il tempo di permanenza all'interno delle liste del funnel? Perché poi sappiamo che c'è un ingresso all'interno del funnel, ci sono una serie di follow up che riscaldano ulteriormente finché non portano poi il lead a fare una call to action, la richiesta che magari potrebbe essere richiede informazioni, richiede una consulenza o addirittura richiede di acquistare. Sì. Il tempo... Il tempo è fondamentale perché io quello che dico sempre, noi creiamo tutti questi sistemi, paghiamo per acquisire contatti e poi magari non chiamiamo i contatti che ci hanno detto no, guarda, voglio maggiori informazioni, chiamami. Loro stanno lì ad aspettarci e non li chiamiamo. Allora dico, non è che se noi li chiamiamo dopo un'ora sembra che siamo a casa senza far niente. Anzi, cioè, dalla parte del cliente, cioè, diamo proprio un'immagine professionale di attenzione al cliente, lo facciamo sentire importante, anche perché più tempo aspettiamo e più è probabile che un altro nostro concorrente l'abbia chiamato prima. E quindi, cioè, io dico, se stiamo pagando per acquisire questo cliente lo dobbiamo chiamare subito. Infatti, noi abbiamo creato un sistema proprio di gestione contatti, un software, che tiene sotto controllo il ritardo sulla chiamata. Cioè, quanto tempo ci metti per chiamare quel cliente lì? perché diamo un obiettivo ai commerciali. Poi, che succede? Chiaramente questa è la prima chiamata, poi, come hai detto tu, ci sono tutte le varie sequenze email che chiaramente lo chiamiamo via telefono, gli mandiamo una sequenza di email per dargli tutte le informazioni. Poi, se vediamo che in quel momento lui non è pronto, lo segniamo per essere richiamato dopo tre mesi. quindi c'è sempre tra virgolette uno sfruttamento di quello che sono i contatti che noi abbiamo all'interno dell'azienda già acquisito. Non solo dall'esterno, cioè in acquisizione, ma lavoriamo molto internamente anche. Molto, molto importante questa cosa che dici perché si collega anche a un altro principio, no? Nel momento in cui crei un sistema, è un sistema perché ha diverse variabili. È proprio un'integrazione di diverse fasi. possiamo dire pre, durante e post il contatto. E la capacità di riuscire a tenere coerenza tra queste fasi sicuramente ci dà un maggior vantaggio. La distorsione potrebbe essere che crea un sistema e poi magari non ho perfezionato il sistema interno che come dicevi tu che è il tempo di ricontatto, il potenziamento della forza vendita, la formazione alla forza vendita per dire cose coerenti con i messaggi che abbiamo dato noi dal punto di vista del marketing. Questo potrebbe far sì che noi abbiamo riscaldato appunto un cliente che va a comprare da un'altra parte. Quindi quanto è importante creare coerenza e formazione anche nello staff vendita? Assolutamente fondamentale. Cioè non basta fare l'acquisizione. Cioè il marketing è ok. È normale che dobbiamo avere il marketing perché se no il dipartimento commerciale non ha contatti. Però dall'altra parte l'organizzazione del team commerciale è quello che veramente ci farà scalare. Perché lì cioè sui lead che noi acquisiamo cioè per assurdo possiamo continuare a richiamarli per tutta la vita. Cioè noi abbiamo dei contatti che chiamiamo magari dopo due anni che sono entrati nella lista e acquistano. E quindi cioè il potenziale che abbiamo lì dentro è infinito. Cioè l'acquisizione ok. Allora diciamo la maggior parte delle aziende non ha un sistema di marketing online e non fa acquisizione. E quindi già quello è un pezzo. Però sai tanto voglio dire quando creiamo un'azienda dobbiamo lavorare a settori. Adesso magari per questo trimestre ci focalizziamo sul sistema di marketing poi strutturiamo il sistema di vendita e così via. E poi ripartiamo da capo. Un po' questo io lo vedo un po' così no? Cioè ragionare sempre sull'azienda con dei sistemi in connessione. Noi abbiamo marketing crea e passa naturalmente la palla alle vendite. I risultati delle vendite ritornano al marketing e il marketing ottimizza. Poi ritornano alle vendite e finché c'è questo scambio bionivoco di informazione circolare questo favorisce naturalmente quei tassi di conversione e quelle variabili che dicevamo prima. Il numero di nuovi clienti venduto medio per cliente tempo medio di riordino sono le tre variabili che dal punto di vista del performance management ci consentono di avere un sistema che è misurabile e migliorabile. Esattamente esattamente e grazie a questi strumenti possiamo automatizzare anche la lettura dei numeri perché oggi sfido chiunque a sapere se io ti chiedo quanti clienti hai nella tua azienda oggi la maggior parte delle persone non sa rispondere perché non oppure quanti clienti hanno acquistato questo prodotto aspetta che apro il gestionale mi guardi è così invece quello che ci serve oggi ragazzi la tecnologia è alla base del business dello sviluppo della crescita perché automatizza tutti quei processi che dovremmo fare a mano e oggi sono veramente complicati quindi questo è il motivo per cui chiaramente utilizziamo questi sistemi tecnologici per fare marketing ma che servono anche all'imprenditore con un click vedo quello che succede e poi aggiungo un'altra cosa oggi è ancora più importante prendere decisioni cioè l'imprenditore deve prendere decisioni non sul suo oggi mi sono svegliato bene prendo una decisione così domani nuvolo no cioè le decisioni ragazzi devono essere prese sui numeri sui dati reali non sulle nostre sensazioni o sui nostri pareri quando abbiamo un sistema che ci permette di far questo allora vinciamo ma questo poi impatta sulla governance e sul processo decisionale inevitabilmente tu prima parlavi di un cruscotto no la capacità di riuscire ad avere in un processo di sintesi il KPI non è altro che K Performance Indicator è un numero un indice di sintesi che rappresenta ora in un sistema del genere l'imprenditore al suo livello avrà un cruscotto poi se dividiamo i reparti produzione amministrazione vendita quel cruscotto si aprirà in altri indicatori di reparto che si aprirà in altri indicatori di reparto quando parliamo di sistema è proprio perché tutto unito è tutto circolare e questo ci consente di impattare sulla cosa più importante sappiamo che il tempo è la risorsa più democratica che esiste in natura a prescindere dal nostro reddito alle nostre prestazioni alle nostre competenze alla mezzanotte si azzera per tutti avere qualcosa che automatizza e che quindi mi fa risparmiare del tempo sicuramente oggi è uno degli approcci più funzionali per un'impresa ormai neanche più 2.0 ma diciamo 4.0 esatto esatto il tempo ma anche dirò di più la tranquillità cioè la tranquillità da imprenditore di sapere che io con un click apro quella schermata lì e capisco cosa sta succedendo all'interno della mia azienda perché se no ragazzi poi soprattutto in un periodo così e che i dati sono attendibili io per anni che ho fatto la revisione di bilancio quando avevamo dei numeri in bilancio che non quadravano con i dati era giustamente l'imprenditore in quel momento va in paura in paura pura perché non dice ma come io ho dei numeri e poi quei numeri non sono neanche reali invece la costruzione del sistema a step consente di poter sempre avere sotto controllo tutte le varie fasi ci siamo passati tutti da quella fase lì in cui i numeri non tornavano ed è terribile ragazzi cioè alla fine questo è un processo io quello che voglio dire è che non è un qualcosa che dice vabbè cavolo guarda quel bravo ah chissà quanto è difficile è un processo io sono partito da essere un nerd che lavorava nella cameretta a casa con i miei genitori al computer fino a creare un'azienda con queste dashboard a capire i bilanci a capire tutte queste robe ragazzi bisogna studiare punto non c'è altro e mettersi in solo lavorare è la chiave del successo noi sappiamo come dicevamo prima che abbiamo bisogno di conoscere per poter creare e inevitabilmente tutto quello che abbiamo creato per come si sta evolvendo il mercato sappiamo che sarà soggetto a revisioni in un momento di crisi del genere io dal mio punto di vista lo vedo come una grandissima opportunità perché alla riapertura partiremo tutti sulla stessa linea per cui tutti quei vantaggi competitivi chi è stato pronto in questo periodo che si è preparato che si è formato che ha cercato di trovare nuove strade alternative probabilmente la ripartenza sarà più rapida ritengo che in questo periodo in particolare la parola di ordine sia velocità che ne pensi tu? ah guarda hai centrato un punto fondamentale cioè quello che noi stiamo dicendo proprio in questo momento è preparatevi cioè i nostri clienti stiamo dicendo non aspettare che si sappia quando si ripartirà tanto si riaprirà voglio dire non è che o esplode il mondo comunque il business lo dobbiamo fare in qualche modo quindi si riaprirà si ripartirà e appunto chi sarà pronto quando saremo sulla linea di partenza ad essere più veloce sicuramente otterrà maggiori risultati e brucerà i concorrenti che stanno ancora cercando di capire dove devo andare questo anche perché la preparazione mi consente di tenere sotto controllo le variabili endogene al mio sistema perché quell'esogene potrebbero essere talmente aleatorie oggi ogni cambiamento economico porta dei cambiamenti delle regole del gioco l'imprenditore attento oggi cerca di capire quali sono le nuove regole del gioco esatto esattamente esattamente questo è cioè in ogni crisi c'è un'opportunità è normale che dipende tutto dalla nostra mentalità cioè da come lo approcciamo no? cioè dobbiamo chiaramente abbiamo paura perché non sappiamo cosa ci aspetterà quanto durerà tanti aspetti però dobbiamo anche mantenere un po' la barra dritta e andare avanti e vedere cioè guardare un po' avanti cioè almeno provarci e fare delle azioni perché se no se stiamo fermi anzi stare fermi è più rischioso che fare qualcosa questo è sicuro assolutamente allora Alessandro siamo arrivati al termine dei nostri 21 minuti ti voglio ringraziare calorosamente per il tempo che ci hai dedicato e per la tua grandissima competenza perché condividere con te sai io e te siamo sempre molto simili abbiamo sempre trovato questa familiarità anche nel modo di approcciarci ai numeri approcciarci alle attività e questa passione questo fuoco dentro che ci muove e ci consente di fare grandi attività grazie Alessandro non a caso siamo nati lo stesso giorno grazie a te Roberto e a tutto il tuo team fantastico un saluto a tutti quanti che ci stanno seguendo e a presto alla prossima ricordate ragazzi studiate per qualsiasi informazione Alessandro mi potete cercare oppure Funnel Company che è appunto l'azienda grazie Alessandro ricordiamo che ancora tutti i lunedì e tutti i mercoledì abbiamo i webinar gratuiti sul miglioramento delle prestazioni individuali il lunedì per l'imprenditore e per le persone i manager i professionisti e il mercoledì per il miglioramento delle performance professionali perché sappiamo che alla fine la nostra attività si deve basare su numeri, persone e processi e quindi con questi webinar cerchiamo come dicevamo con Alessandro di darvi un po' di formazione grazie e vi auguro una straordinaria giornata ciao a tutti